Musica Non ho sentito che è un'esperienza completa con il Covid Il Covid non ci ha fermati, siamo ancora qui e continueremo. Nel centro della vita c'è l'amore. Se voi non avete contattato, non sarete mai soddisfatti. Per noi il teatro è vita, è finita con diventare un fondamento della nostra crescita. Perché è integrante. Esatto. Ho imparato di essere un cittadino più consapevole. Siamo parte della Colibri Grand, perché qui a Classico non si studia e basta. Ho incontro voluto fare in Cina. Penso che la preparazione anche verso le materie scientifiche sia molto vasta e completa. Per me il Classico è un rapporto bellissimo con professori e compagni. Il Classico per me è un posto fantastico. Svegliarmi al massimo felice. Benvenuti all'Iceo delle Scienze Umane. Le materie caratterizzanti dell'indirizzo sono quattro e tutti e quattro riguardano l'uomo. La pedagogia, che è una riflessione sull'educazione. La sociologia, che studia come l'uomo viene influenzato dalla società che lo circonda. L'antropologia, che mette a paragone le culture di due società diverse, senza preferirne nessuna. E infine la psicologia, che studia l'interiorità dell'uomo stesso. Possiamo coniugare esperienza e conoscenza. La formula magica del successo formativo. Cosa fate nel vostro corso? Facciamo un sacco di laboratori, parco scrittura, informatica ed al prossimo anno anche cinema e musica. Cosa c'è di più bello che canturare gli attimi e riuscire ad esprimere le proprie emozioni tramite un'immagine? Blablabalbo è il sito della nostra scuola. Questa è l'infestazione. In questo sito vengono pubblicati diversi articoli di vari argomenti. Il nostro eattro settimana inizia le manochialze ai laboratori, come cinema e musica. Sottolineeremo l'importanza di altri linguaggi a parte della voce, come il corso del cinema. Le materie di indirizzo, come dicendo noi stesso, di ciò scientifico, sono matematica, fisica, chimica e biologia. Come vi stai trovando? Con i miei compagni mi sto trovando molto molto bene, perché abbiamo molto interesse al comune. Sono cinque anni, dunque, penso che se potessi tornare indietro nel tempo mi riscriverei di nuovo qui e ricomincerai il mio percorso da capo. Ho aperto le porte del liceo linguistico e ho trovato Un mondo di caratteri in cui la scrittura si trasforma in un simbolo di identità e la lingua è musica. Un mondo di esperienze bellissime che ti arricchiscono. Un mondo di relazioni nuove vicitte. Il liceo linguistico. Per essere dei cittadini del mondo. Un mondo senza fronteiras. Per essere dei cittadini del mondo, senza fronteiras. Per essere dei cittadini del mondo senza fronteiras. Per essere dei cittadini del mondo senza fronteira. Grazie a tutti. Ci aspettiamo. Hasta luce. See you soon. Bye. Bye. A uscire. A uscire. Grazie a tutti.